Aggrovigliamento La soluzione più sicura è quella di segnalare al compagno che siete impigliati da qualche parte. Mentre il compagno vi libera, rimanete immobili e controllate la galleggiabilità e l'assetto. Se non riuscite a comunicare con il compagno, cercate di liberarvi da soli. La prima regola è quella di fermarsi e muoversi il minimo indispensabile. Non cercate di girarvi a forza, movimenti errati potrebbero peggiorare la situazione. La prima regola è quella di segnalare al compagno che siete impigliati da qualche parte.